Walter Veltroni è un po' focalizzato il punto, perché giustamente la professoressa Capo è una scienziata quindi le dice guardate qualsiasi cosa succede i vaccini portano in un determinato punto Massimo Giannini è un giornalista, dice sì ma se tu il giorno prima mi dici fuoco alle polveri e il giorno dopo ci blocchiamo, qualcosa che non va c'è. Serve una guida molto forte in questi momenti, no? Sì, serve una guida molto forte e non emotiva. Allora, serve molta razionalità, serve molto controllo della situazione e è vero quello che dice la dottoressa Capo, nel giro di un anno si sono trovati dei vaccini si sono vaccinate milioni di persone, è vero quando dice che forse la fine del tunnel lo stiamo vedendo però è anche vero che come ha detto Massimo Giannini le opinioni pubbliche sono molto provate e credo che si stia sottovalutando l'effetto psicologico di questa seconda fase terza ondata ma seconda fase di lockdown sia dal punto di vista sociale sia proprio dal punto di vista psicologico allora c'è bisogno di non mandare messaggi improvvisati allora se bisogna decidere di sospendere la somministrazione di AstraZeneca deve farlo l'Europa, deve farlo per tutti e deve farlo in maniera motivata non si può sospendere e dopo due giorni riprendere con un disordine che crea nell'opinione pubblica una sensazione di precarietà, di incertezza mentre la Gran Bretagna e gli Stati Uniti dicono guardate non c'è problema ma se ricapitoliamo la vicenda AstraZeneca allora prima si è detto che va somministrata sotto i 55 anni poi la soglia a 65, poi a 79 poi si chiude e si smette in qualche modo è legittimo dal punto di vista anche del cittadino scoprire che cartello 4 questo sondaggio ce lo esporrà a breve Nando Pagnoncelli il 44% farebbe il vaccino ma non AstraZeneca e altri farebbero il primo vaccino disponibile anche AstraZeneca solo al 29% non farebbero il vaccino 13% ma questa è la situazione che bisogna rimontare perché se noi non avremo una vaccinazione di massa la più ampia possibile con il massimo dei vaccini disponibili nessuno, a parte la professoressa Capo nessuno di noi è uno scienziato però tutti si mettono sulla panca e dicono la loro opinione su qual è il vaccino migliore io mi fido delle istituzioni internazionali che allora mi dicano in fretta e bene che ci dicano però e ci dicano con una voce sola se AstraZeneca va bene procediamo e andiamo a fondo e vacciniamo 24 ore su 24 dovunque il maggior numero possibile di persone Massimo